Ho iniziato a registrare, calmo Ok, mi si sente Si si, ti senti forte e chiaro Perfetto Ecco, allora intanto tolgo anche Telegram che scassa ovviamente come sempre Fa laggare e basta Telegram Beh non ti fa laggare, senti il rumore in continuazione Du 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 Che falle Ma io per perdere cosciotte cosa devo fare? Non dovevi mangiarti, devi aspettare a mangiare il salmone Corri a casa per tutta la casa Cazzetto Ehi, se non vengo ancora a parte il mio legno Ti invito cortesemente a iscriverti e attivare la campanina per ricevere tutte le novità del mio canale Poi se vuoi sapere tutti i tipi di video che porto settimanalmente Ti invito a passare nella descrizione del mio canale Beh, detto questo vi trattisco anche per troppo tempo Perciò, buona visione Via Ah, perfetto Ho raccolto un po' di ferro per farmi un po' di armatura Purtroppo ho molta fama, accidenti Beh, spero che appena torno a casa E spero che non ci siano degli zombie Posso mangiare il salmone spettacolare Se che ho preparato Io comunque veramente riesci a chiedersi la casa e tutto sono bellissime Allora Ma Allora Dov'è il salmone? Qua c'è soltanto del ferro E un ragno Mmm, che buono sto Ops Ciao Quello era il mio salmone, pezzo di merda Aia, aia, aia Brutto stronzo Aspetta, aspetta Perché mi picchi? Ti sei mangiato il salmone che mi ero preparato con cura Ah, vabbè, tieni, ti do un pezzettino di carne Non possono soddisfare due pezzetti di carne Incroce la La scusitezza del salmone spettacularis di Marco Togni Come hai potuto? Eh, scusa, mi faceva gola Senti l'odore, però ti posso far sentire l'odore della bocca Senti Senti Buono? Eh, buonissimo Brutto non so che te lo sei pappato tutto, ah Vabbè Vabbè, arrangiati dai Tanto ho visto questa casetta bellina Ho aperto la cesta Ho visto che c'era il salmone e l'ho preso Cioè, non... Ma il ferro che hai cotto qua era il tuo? Ehm, no No, io sono arrivato ora Precisamente ora Cioè, non... Allora me lo sarò cotto io a caso Quando lo voglio, vabbè Comunque Piacere, Alexis Ciao, piacere, Fabio Visto che ti sei pappato il mio salmone Dimmi qualcosa di bello che potrebbe indare in questa zona Cavolo Un albero di Natale Siamo nel periodo natalizio ora che ci penso In realtà no, non lo siamo Semplicemente no Ho potuto fare questo periodo di Natale E voi sapete per quale motivo Maledetto computer Andiamo in quella foresta e raccogliamo tutto Alexis, Alexis Sì Maldi una cosa, tieni un pezzettino Sì Salone Mmmmm Vedete se tutti un po' d'accordo Ora che ci penso No, no Alexis Ma è sfiga questa Forever 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 Un'eternità dopo Lontano Vabbè allora Guardate che questa ecco va bene Va bene in sto posto qua Ora guarda cosa faccio No, questo Vediamo fare tipo delle radici qui Qua adesso andiamo a fare tipo un po' la bozza dell'albero Questa è la base Ok Questa è la base Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque il video deve quasi finire e creo che ti devi tornare nel polo nord dove tu vieni giusto? Torno subito nel polo nord. Allora tieni, durante il viaggio ti regalo questi. Ti do questi per il viaggio, del salmone. Il salmone puzzolente. Esattamente. Vai, ci vediamo, vada al polo nord. Ciao. Ciao. Ah, ero un po' stupido, ma mi manchè. E' un po' stupido. E' un po' stupido. E' un po' stupido. E' un po' stupido. E' un po' stupido.